un caro saluto a tutte e tutti allora ogni tanto mi chiedete come si può fare per migliorare le ricerche di google e io adesso non è che voglio farvi un corso di come si usa google ma le cose essenziali perché a volte è difficile trovare le notizie facciamo così io vado a mettervi l'ultima ricerca che ho fatto e vedete che escono tutte queste notizie che sono abbastanza interessanti ok vabbè però se io devo affinare la ricerca per le date qui abbiamo tantissime possibilità possiamo andare a cercare l'intervallo di date oppure che so l'ultima settimana così andiamo ad affinare sempre la ricerca che sto facendo nell'ultima settimana vedete cinque giorni fa tre giorni fa quattro giorni fa eccetera e poi sotto trovate parecchie pagine potete andare avanti e scorrere vedete che sono tutte durante la settimana ma potete affinarla ancora di più perché sempre con gli strumenti potete andare a vedere la ricerca che ho appena fatto non nell'ultimo anno ma nelle ultime 24 ore pertanto anche qui avete riuscito ad affinare la ricerca che state facendo questo è importante perché vi permette anche di andare a fare i risultati ben precisi magari andando ad inserire l'intervallo di date grazie a tutti Grazie.